Salve a tutti, sono Luigi di Non Solo Trash in diretta da casa mia e oggi sono qui per parlarvi del nuovo film diretto da David Lowery, nonché film original per Disney+, uscito direttamente in piattaforma, nonché Peter Pan e Wendy, film del 2023 diretto da David Lowery, già seconda esperienza cinematografica con la Disney, nonché per un remake in live action, visto che nel lontano 2016 aveva realizzato il remake in live action di Il Drago Invisibile, con Robert Redford e Bryce Dallas Howard, film che davvero mi ha molto emozionato, molto interessante e vi consiglio assolutamente di recuperare se non l'avete ancora fatto. Nella sua filmografia David Lowery si è contraddistinto e ha diretto a Ghost Story, storia di un fantasma con Casey Affleck, un film davvero molto emozionante, molto cupo e molto strano, molto grottesco per certi aspetti e poi ha avuto l'onore di far realizzare un suo sogno a Robert Redford, nonché il suo ultimo film dalla sua carriera, nonché Old Man and Gun, già precedentemente recensito su questo canale, un film davvero molto interessante, Old Man and Gun. Peter Pan e Wendy segna il sedicesimo remake in live action, tra l'altro 70 anni dopo l'uscita cinematografica del classico Disney, nonché del quattordicesimo classico Disney, però in realtà dire che questo film sia un remake in live action è piuttosto sbagliato, visto che si tratta di un nuovo adattamento del classico Disney, nonché ennesimo film su Peter Pan, tratto ovviamente dall'omonima opera teatrale di James Matthew Barry e ovviamente diciamo che il primo film in live action portato proprio su grande schermo con attori in carne ed ossa è stato realizzato a Steven Spielberg, un film che ha fatto sicuramente l'infanzia di tutti i ragazzi degli anni 90, nonché appunto Hook, Capitano Uncino, con il mitico Robin Williams nei panni del intramontabile, indimenticabile Peter Pan, naturalmente, e Dustin Hoffman nei panni di Capitano Uncino, ma ovviamente il vero e proprio film in live action sul personaggio iconico di Barry non è altro che Peter Pan del 2003, diretto da PJ Hogan, interpretato da Jeremy Sumter, è ovviamente che interpreta il personaggio di Peter Pan, mentre a interpretare il ruolo di Capitano Uncino e anche il ruolo di George Darling è Jason Isaac, che si è contraddistinto davvero tanto nel suo doppio ruolo, nell'interpretazione iconica di questo personaggio, che è anche del padre timido e allo stesso tempo severo di Wendy e dei fratelli appunto Michael e John. Persino Joe Bright non si è sprecato nel realizzare la sua versione di Peter Pan, chiamata Pan, film del 2015 con Levi Miller nel ruolo di il piccolo Peter Pan e Hugh Jackman nel ruolo di un personaggio che ricordava molto vagamente Capitano Uncino, mentre Capitano Uncino era interpretato un altro attore che adesso non ricordo. Sta di fatto che quel film è stato un completo disastro e in effetti abbastanza dimenticato. Però devo dire la verità, per quanto riguarda questo Peter Pan e Wendy, da quando è stato annunciato nel lontano 2016, ovviamente avevano sempre voluto alla regia il mitico David Lowery, che è stata la prima scelta e non l'hanno minimamente cambiato, ovviamente io avevo delle aspettative molto alte e un'estrema curiosità, una grandissima attesa ed ero ottimista, molto fiducioso ed è stata sicuramente probabilmente un'occasione mancata quella di non mandarlo nelle sale cinematografiche, facendolo ingiustamente uscire e distribuire sulla piattaforma di Disney+, che però sinceramente non ho apprezzato questa scelta di mandarlo direttamente in piattaforma e non al cinema, perché sicuramente aveva un'impronta molto cinematografica rispetto al film di Rob Marshall che sarebbe uscito e che uscirà appunto nei prossimi giorni, in questo mese, in questo mese di maggio, nonché La Sirenetta, il nuovo film live action della Sirenetta, tratto ovviamente dall'omonimo film animato classico Disney. Ma ovviamente, come al solito, quando si tratta di questi film, quando si tratta in particolare di questi remake in live action, si possono considerare tali, non fanno altro che causare inutili e sterili polemiche, soprattutto sul titolo, che molti pensavano fosse soltanto una sorta di politically correct, un modo per attirare gli spettatori, per rendere anche il titolo molto più inclusivo, per tenere anche la coprotagonista nel titolo, ma quando poi in realtà è anche l'omonima opera teatrale a chiamarsi Peter Pan e Wendy, quindi grave errore per quelli che hanno pensato subito a male. Ma in realtà le sterili e inutili polemiche si sono anche protratte sulla Trilly di colore, che in effetti è un punto abbastanza sorvolabile, e per di più anche sulle bimbe sperdute, nonché le piratesse, che molti pensavano fosse un essere forzatamente inclusivi o politically correct, solo per rendere il film molto più inclusivo. Per quanto mi riguarda, no, in realtà le piratesse ci sono sempre state, anche nei altri film della Disney, come i Pirati dei Caraibi, e in questo caso inserire le bimbe sperdute non ha fatto altro che finirla lì in realtà, perché hanno voluto tanto pubblicizzare i trailer che hanno un po', diciamo, ce l'ho spoilerato quasi tutto il film, però in effetti è una cosa che nasce e more lì, quindi fortunatamente non è così tanto importante per la storia il fatto che ci siano anche le bimbe sperdute, oltre che i bimbi sperduti. Ma queste sono soltanto i lazioni, i nezie per quanto mi riguarda, perché sono qui per parlarvi anche del lato tecnico di David Lowery, che come vi dicevo anche prima è stata la prima scelta fin dal 2016 nel dirigere questa trasposizione cinematografica, nonché il nuovo adattamento in live action di Peter Pan, in questo caso Peter Pan e Wendy. Infatti non a caso si notano i magnifici virtuosismi di camera, il piano sequenza iniziale che introduce i personaggi nella casa, nella famiglia Darling, è ovviamente una regia mai ordinaria, molto dinamica, soprattutto da questa messa in scena molto limpida, chiara, pulita, cristallina, e ovviamente diciamocelo, se fatto le ossa con i film precedenti, il nostro caro David Lowery, soprattutto se avete visto magari, e vi consiglio assolutamente di farlo se non l'avete fatto ancora, di recuperarvi a Ghost Story e naturalmente a The Man and the Gun, e anche ovviamente il remake live action Disney, il drago invisibile del 2016. E quindi per questo motivo posso non far altro che lodare la regia ricercata di questo grande regista, soprattutto le particolari angolazioni e inclinazioni di macchina. Una regia piuttosto patinata, come la stessa fotografia, non a caso il direttore della fotografia è lo stesso del drago invisibile, quindi si è portato dietro questa fotografia molto cupa, molto spenta, molto dark, patinata da questi giochi di luci, di ombre, di questi colori, con questa saturazione molto ricca di contrasti, ricercata, innovativa, con queste atmosfere, in queste ambientazioni crepuscolari, scure, malinconiche, nostalgiche. E in effetti i colori sono abbastanza importanti in questo film. Il verde è il colore preponderante, anche perché è il colore principale che caratterizza il personaggio di Peter Pan. Infatti anche per questo motivo ho adorato questa patinatura, nonché questa sorta di filtro, questa saturazione deprivata dai colori, spesso e volentieri. Infatti è per questo motivo che ho adorato proprio questa fotografia molto retro, per certi aspetti, quasi come se fosse un film direttamente uscito dagli anni 70. E in effetti David Lowery ha sempre portato su grande schermo questi film molto crepuscolari, da a Ghost Story, a All the Man and the Gun, ma soprattutto anche a Sir Gawain e il Cavaliere Verde. Però da questo punto di vista il direttore della fotografia ha curato magnificamente ogni singola inquadratura di questo film. Peccato che comunque il film non voglia più che altro spettacolarizzare tanto dal punto di vista registico, ma tanto più spettacolarizzare dal punto di vista anche dei personaggi. Dalla scrittura dei personaggi, infatti, la scrittura presenta parecchie differenze col classico Disney, ovviamente, però non sto qui di certo a elencarvele. Il film, purtroppo, per quanto mi riguarda, è stato scritto con un'eccessiva rapidità, come se fosse effettivamente stata fatta una scrittura frettolosa. Infatti, nel caso, lo stesso regista, David Lowery, lo sceneggiatore, insieme anche a Toby Holbrooke, hanno sicuramente, probabilmente, accorciato molte dinamiche che erano davvero interessanti nel film originale, magari che potevano essere molto più noiose, probabilmente per gli spettatori attuali, per il pubblico moderno. Però, in effetti, lo svolgimento risulta essere abbastanza didascalico, nelle dinamiche lineari, nella narrazione appassionante e coinvolgente, però effettivamente l'ho trovato eccessivamente frettoloso e rapido nel suo svolgimento, nella sua narrazione. Però, ecco, c'è a dire che, in effetti, i colpi di scena non mancano, sono abbastanza prevedibili, certo, con un finale abbastanza inaspettato e abbastanza commovente. Si è di solito abituati, in questo caso, visto che Peter Pan, vuoi o non vuoi, c'è sempre un po' di commozione quando lo si finisce di vedere, qualsiasi film sia, anche quello meno riuscito, diciamo così. In effetti, le tematiche sono più o meno sempre le stesse, sempre la paura di crescere, di perdere la spensieratezza dell'essere giovani e, ovviamente, questa spensieratezza bisognerebbe anche conservarla per quando si diventa adulti. Il tempo, la metafora, appunto, del coccodrillo, dell'isola che non c'è, che purtroppo in questo caso, in realtà, è quello che non c'è in realtà qui, è proprio il coccodrillo, che compare soltanto in una fugace e rapidissima sequenza, proprio a significare soltanto un po', fare lì capolino, per dire che comunque sull'isola che non c'è, c'è il coccodrillo, che è la metafora del tempo per Capitano Uncino, ma in questo caso ci sono, ovviamente, i classici e soliti temi che abbiamo già visto in tutte le altre trasposizioni cinematografiche di Peter Pan. Quindi, ovviamente, non ci si nasconde la commozione e l'emozione nel vedere queste tematiche affrontate in un film come questo. C'è da dire, però, che la scrittura dei personaggi l'ho trovata un po' abbozzata per certi aspetti, in alcuni casi. In realtà, la protagonista, nonché Wendy, interpretata da Heather Henderson, che l'abbiamo già vista interpretando il giovane personaggio, appunto, di Black Widow, nell'omonimo film con Scarlett Johansson, in un flashback ambientato negli anni 90, l'ho trovata abbastanza carismatica, anche se in realtà non degna di nota da essere ricordata come l'attrice protagonista che interpretava Wendy nel film di Peter Pan del 2003 di PJ Hogan. Sta di fatto che, comunque, effettivamente hanno cercato di renderla molto più carismatica, molto più, diciamo, complessata a quel punto di vista, molto più profonda in realtà, però non ci sono particolarmente riusciti. Invece, a interpretare il ruolo, ovviamente, dell'iconico personaggio che dà il titolo al film, nonché Peter Pan, è Alexander Moloni, che comunque è un personaggio abbastanza affascinante e sicuramente si dimostra essere addirittura anche più grande dell'età che dimostra nel film. Quindi, sicuramente è molto interessante il modo in cui ha interpretato questo personaggio. Tra l'altro, ho detto a Alexander Moloni un vero prodigio, in effetti, perché non mi aspettavo che interpretasse in maniera così tanto disinvolta un personaggio così importante, così effettivamente profondo come quello di Peter Pan. In effetti ha fatto un ottimo lavoro di recitazione, per quanto mi riguarda in questo caso. Come vi dicevo, è un personaggio davvero molto affascinante, quello di Peter Pan, seppur anche lui purtroppo è stato decisamente scritto con minore intensità. Sicuramente potevano decisamente approfondire e sicuramente sviluppare maggiormente la sua storyline, che viene sì, sicuramente sviluppata, ma purtroppo ci viene sicuramente resa molto rapida, quasi come se effettivamente fosse frettolosa, come se non ci fosse letteralmente tempo per portare su grande schermo queste storie così tanto profonde di questi personaggi che sono per di più anche protagonisti. Quindi ho trovato una cosa abbastanza grave che non si approfondisse più di tanto un aspetto dei personaggi, soprattutto in questo caso protagonisti. Stai il fatto che ovviamente tutti stavamo aspettando di vedere un Capitanuncino davvero interessante, cioè quello interpretato Jude Law, però per quanto mi riguarda l'unico Capitanuncino degno di nota può essere, per quanto mi riguarda personalmente, Dustin Hoffman nel caso di Steven Spielberg in Hook e Capitanuncino, che dà anche il titolo anche al film, ma in realtà probabilmente forse quello un pochino più iconico per quanto mi riguarda personalmente, perché è stato un film dal mio infanzia, perché diciamocelo, per chi non è stato il film dalla propria infanzia, il quattordicesimo classico Disney, Le avventure di Peter Pan, anche perché tra l'altro io sono sempre cresciuto con la versione addirittura del ridoppiaggio, con il film animato con il ridoppiaggio, che effettivamente poi ho recuperato giustamente proprio qualche anno fa il doppiaggio originale del film e vi assicuro che l'ho adorato ancora di più, per quanto già mi piacesse Peter Pan, per quanto mi riguarda ovviamente il classico Disney. E quindi anche un po' per quello, siccome hanno fatto la mia infanzia questi film, soprattutto anche il film di PJ Hogan, che lo trasmettevano continuamente ovviamente in tv, non ho potuto fare altro che apprezzare giustamente il suo Capitanuncino interpretato da Jason Isaac, che ovviamente è sicuramente molto più inquietante, molto più cupo rispetto a questo Jude Law che è quasi più gigione, per certi aspetti, no? Ovviamente è un personaggio profondo, cattivo, sì, ovviamente, ma non ha sicuramente intenzioni malevoli per alcune altre interessanti aspetti del suo personaggio. In effetti sembra che abbia comunque del buono, che dimostri di avere ancora un lato tenero nel suo cuore, nel suo buon cuore, forse perché Jude Law non ha quel volto da cattivo che in realtà avevano anche altri interpreti, perché c'era questa tradizione che appunto ad interpretare il personaggio di Capitanuncino doveva essere proprio anche lo stesso interprete di George Darling, però ovviamente in questo caso a interpretare George Darling abbiamo ovviamente Alan Tudyk, che non mi sarebbe dispiaciuto a vedere nel ruolo di un probabilmente abbastanza sopra le righe carismatico, probabilmente Capitanuncino. Non che Jude Law non sia adatto per questo ruolo, però probabilmente ha un volto, un viso molto più, probabilmente meno cattivo rispetto a un Jason Isaac che lo guardi e lo vedi ed è essenzialmente il cattivo. Infatti nel film di PJ Hogan, in effetti il suo personaggio di Capitanuncino era molto interessante, era molto più quasi sviluppato rispetto a quello di Peter Pan e c'era proprio questo bel conflitto tra loro due. In questo film in realtà no, il personaggio di Jude Law che interpreta appunto i personaggi di Capitanuncino è abbastanza, in effetti sì, insomma molto più simile alla sua controparte animata che ce l'abbia sì con Peter Pan, ma non tantissimo perché lui in questo caso, in questo film mi è piaciuto però in realtà che hanno approfondito questa sua backstories tra Peter Pan e Uncino, cioè che abbiano esplorato il passato di questi due personaggi e che in effetti erano grandi amici del passato. Però in effetti come vi dicevo prima, la tradizione di far interpretare sia George Darling che Capitanuncino in effetti in questo film è stata sicuramente cannata, però in effetti Jason Isaac nel doppio ruolo di George Darling e Capitanuncino ha fatto un ottimo lavoro da quel punto di vista perché ha reso il personaggio molto più memorabile. Sicuramente si vede che è proprio una grande prova di recitazione, una grande prova attoriale per quanto riguarda appunto Jason Isaac. Qui ovviamente Jude Law fa del suo meglio, riesce a essere inquietante in alcune scene ma sicuramente molto più simile, come vi dicevo anche prima, alla controparte animata. Si vede che è molto più, tra virgolette, terrificato, spaventato dal passato e in effetti quando bisogna non pronunciare il nome di Peter Pan, in effetti è abbastanza interessante come gag che viene riproposta continuamente durante lo scorrimento, lo svolgimento del film, durante la narrazione di questo film. E anche il fatto che comunque la ciurma non sia particolarmente caratterizzata, infatti ci sono le piratesse che comunque fanno da contorno alla sua ciurma. Lo spugna interpretato naturalmente da Jim Gaffigan è interessante perché comunque risulta essere molto più simile anche lui in quel caso alla sua controparte animata, solo che qui in effetti oltre a essere diciamo probabilmente alcolizzato il suo personaggio è anche sordo per la sua ovviamente anzianità. Ed è molto interessante come in questo film cerchi anche di far insavire il personaggio di Capitano Uncino, chiamandolo anche per nome, quindi giustamente Jack. Quindi è davvero molto interessante che lo chiami anche per nome perché giustamente viene esplorato un passato. Chissà mai che facciano un prequel su questo film perché sarebbe davvero molto interessante poi se lo dovesse anche dirigere, tra l'altro e mi aspetto e mi auspico che lo diriga David Lowery. Perché no? Purtroppo come dicevo prima il coccodrilo, seppur essendo un personaggio, è abbastanza fugace la sua apparizione in questo film però in effetti è abbastanza ben curato da quel punto di vista perché compare in una scena abbastanza iconica che abbiamo già amato nel film originale del classico Disney ovviamente del 1953 di 70 anni fa essenzialmente. E come vi dicevo prima anche in effetti purtroppo forse è stata un'occasione sprecata la caratterizzazione delle bimbe sperdute perché purtroppo è una cosa che nasce finisce lì. Come anche i personaggi secondari, comprimari purtroppo. Sia John che Michael, i fratellini appunto, i fratelli minori di Wendy non sono minimamente caratterizzati come anche il personaggio di Giglio Tigrato che hanno cercato un po' di dargli quella sorta di caratterizzazione ma anche i personaggi di Trilly che è abbastanza interessante e dovrebbe essere importante per il film non viene minimamente caratterizzato. Per non parlare anche di Alan Tudyk nel ruolo di George Darling che fa veramente anche lui una fugace e rapidissima apparizione nel film e anche naturalmente Molly Parker nel ruolo di Mary appunto la madre di Wendy che ha soltanto una scena che la rende protagonista dove canticchia una canzone che tra l'altro è abbastanza buona. Però come vi dicevo sono personaggi che sono stati sprecati male sono stati sfruttati male perché sono piatti bidimensionali, privi di spessore, poco memorabili, poco carismatici nonché stereotipi e probabilmente sono personaggi banali, sono soltanto dei personaggi che hanno dei cliché nella loro caratteristica. Peccato, mi sarebbe piaciuto un grande sicuramente sviluppo di questi personaggi perché tutti sono importanti e anche i bimbi sperduti purtroppo come vi dicevo sono sia bimbi che le bimbe sperdute sono del tutto anonimi purtroppo. Non posso fra l'altro che purtroppo dire che devo assolutamente trovare questo difetto in realtà come vi dicevo anche prima i colpi di scena e comunque il finale sono abbastanza prevedibili però allo stesso tempo anche il finale l'ho trovato un po' inaspettato perché hanno cercato un po' di modificare alcune sequenze nonché essendo un nuovo adattamento cinematografico di quello che abbiamo già visto in passato quindi un altro film su Peter Pan, l'ennesimo direi anche perché se non sbaglio addirittura l'anno scorso hanno fatto un film spin off proprio su Wendy però uscito direttamente per Amazon Prime che sinceramente non ho visto ma comunque stai fatto che è abbastanza dimenticabile molto probabilmente però come vi dicevo gli attori sono stati abbastanza buoni nella loro discreta barra buona interpretazione sono stati un po' sprecati male per quanto mi riguarda avrebbero potuto approfondire maggiormente i loro caratteri i loro personaggi nella scrittura della sceneggiatura però immagino che sicuramente forse le tempistiche erano abbastanza ristrette quindi pur di tenere il film in una narrazione molto più fluida molto più come vi dicevo anche prima è una narrazione molto lineare quindi fortunatamente non si perde in inutili e futili sequenze dove ci si annoia assolutamente un film che scorre molto piacevolmente un film abbastanza rapido molto veloce non a caso nei suoi ritmi infatti un film istancabile un film piuttosto coinvolgente un film appassionante di buon intrattenimento e infatti non a caso mi ha un po' diciamo deluso l'esigua nonché ristretta e tenue e durata nonché circa 90 minuti un'ora e mezza vale la pena per secondo me troppo corto un film come questo per uno sviluppo dei personaggi o comunque di una narrazione che purtroppo è abbastanza frettolosa quindi ci sarebbe stato un modo magari se la se la se il minutaggio comunque il metraggio dei film fosse stato sicuramente maggiore un per uno sviluppo sicuramente più ampio degli avvenimenti nella narrazione che sono troppo rapidi troppo frettolosi troppo fulminio magari in effetti quindi da questo punto di vista l'ho trovato un po deludente soprattutto anche gli effetti speciali che li ho trovati un po troppo invasivi discreti soprattutto il coccodrillo che mi aspettavo fosse un po più presente in questa pellicola comunque perché insomma rappresenta proprio il tempo che scorre per capitano uncino ci viene soltanto detto in maniera molto rapida che un giorno peter ha tagliato la mano a capitano uncino che ha sostituito la mano con l'uncino tra l'altro un uncino tra l'altro molto ben levigato al contrario dell'uncino di quello che indossava il capitano uncino invece di jason isaac nel suo film di peter pan del 2003 non riesco a capire come mai però in questo caso non ci venga spiegato più di tanto il fatto che in effetti abbia ingoiato una sveglia comunque un orologio e quindi grazie al ticchettio lo si sente arrivare in questo caso purtroppo non hanno fatto l'iconica scena in cui si sente il ticchettio preponderante del coccodrillo che si avvicina un modo anche per ricordare che il coccodrillo si sta avvicinando nonché la morte del personaggio quindi anche del di capitano uncino quindi la metafora della morte che si avvicina quindi il ticchettio costante dei secondi che passano sul sull'orologio viene soltanto fatta una fugace rapidissima sequenza in cui ci sono michael e john che effettivamente vengono rapiti dai pirati vengono portati sopra il jolly rogers e ovviamente succede che ovviamente c'è capitano uncino che sente un ticchettio che neanche noi stessi spettatori riusciamo a sentire tra l'altro e quindi c'è lui che cava fuori dalla tasca di john questo questo orologio da taschino che distrugge ovviamente poi vabbè sì ovviamente qualche gag qualche ecco sicuramente è un film abbastanza serio per quanto mi riguarda ecco volevo proprio dire questo cioè il film è sicuramente abbastanza divertente per anche un pubblico di minori però sta di fatto che il film ha un'esigua comicità o comunque non è che ci siano queste grandi gag da sbellicarsi dalle risate però in effetti è la comicità in stile disney che però purtroppo è molto inferiore rispetto al film classico disney in effetti le atmosfere più cupe più adulte diciamo così dirette da magistralmente senza ombra di dubbio da david laurie hanno sicuramente portato a un inasprimento di quello che è effettivamente l'umorismo di questo film che è abbastanza ridotto sotto lo zero essenzialmente è quasi vicino allo zero in effetti hanno cercato di realizzare un film molto più adulto per probabilmente per i fanatici perché no però in effetti come vi dicevo prima gli effetti speciali in cg pur essendo un po' troppo invasivi per certe sequenze soprattutto il coccodrillo che l'ho trovato molto deludente perché non mi è piaciuto veramente per niente il suo caratter design sembra un coccodrillo come un altro però in una cg tra l'altro abbastanza discreta comunque sta di fatto che gli effetti speciali in computer grafica fanno il loro sporco lavoro sicuramente ho trovato gli effetti speciali di pinocchio di roberts e macchies decisamente peggiori comunque è abbastanza diciamo decente accettabile come computer grafica in questo peter pan e wendy il fatto che comunque il film sia abbastanza rapido nello suo scorrimento è anche dovuto anche a una discreta per quanto anonima poco memorabile colonna sonora che sinceramente ho trovato abbastanza ripetitiva per certi aspetti che accompagna comunque discretamente le buone sequenze del film i momenti canterini in stile musical ci sono soltanto un paio di volte però in effetti non stonano nello scorrimento del film nella narrazione non sembrano dei momenti che siano stati scelti apposta per il film però in effetti diciamo fanno il loro dovere e sicuramente sono inseriti nei momenti giusti durante lo scorrimento del film ovviamente non potevo non apprezzare i temi originali riproposti in questa nuova versione cinematografica in live action che ovviamente sono molto più strumentali rispetto alla sua controparte animata di 70 anni fa però ovviamente ho apprezzato la sequenza soprattutto quella che ho apprezzato maggiormente dal punto di vista anche di effetti speciali di proprio anche di sonorizzazione di come è stata proprio messa in scena che ovviamente è stata fatta completamente in CG quindi computer grafica con questi effetti speciali abbastanza discreti come vi dicevo prima la sequenza in cui loro passano da Londra quindi dal Big Ben passano all'isola che non c'è quindi questo salto temporale questa sorta di salto temporale tra l'altro ho notato anche un piccolo dettaglio scenografico perché in effetti le scenografie le ho trovate molto molto buone soprattutto quelle appunto non a caso girate realmente in Vancouver e a Terranova sono state veramente interessanti queste location poco tropicali che ti danno proprio con impressioni di freddo infatti non a caso come vi dicevo anche la fotografia da questi colori molto freddi è curiosa no perché vuole essere molto più cupa, molto più adulta per certi aspetti quindi ho apprezzato anche il notturno come viene mostrata la sera, la notte comunque le sequenze notturne di questo film sono abbastanza bluastre quindi tendono quasi più al blu quasi come se effettivamente durante la notte c'è sempre quel velo di tristezza però anche infatti non a caso come vi dicevo il rapporto tra Peter Pan e Capitano Uncino in questo film è molto più profondo e sembra quasi che si riappacifichino durante diciamo lo svolgimento dei film verso il finale in effetti che si redima quasi il personaggio di Capitano Uncino e quindi anche un po' per questo ho apprezzato però ho notato questo piccolo dettaglio scenografico perché non a caso loro in un momento in cui arrivano alla Grotta del Teschio giustamente fuori diciamo sullo sfondo nel cielo si denota un pianeta abbastanza conosciuto si denota che in effetti sembra che ci sia Saturno nel cielo che si veda molto molto piccolo nel cielo quindi come se effettivamente l'isola che non c'è non sia altro che una sorta di luna di Saturno comunque vicina a Saturno quindi vicino a Giove magari perché no? non sono un astronomo però in effetti ho trovato questo dettaglio molto interessante che ci abbiano voluto mettere Saturno sullo sfondo nel cielo è un film che purtroppo non è piaciuto a molti che ha diviso molto il pubblico e soprattutto i fan che non l'hanno apprezzato minimamente e ho visto che hanno dato dei voti abbastanza bassi a questo film ovviamente l'opinione che ho espresso in questa mia personalissima recensione è del tutto come vi dicevo appunto poc'anzi personale quindi non giudicatemi effettivamente sto soltanto esprimendo la mia pura e mera opinione personale su questo film che sinceramente non vedevo l'ora di vedere e che mi sarebbe piaciuto tantissimo e ripeto e ribadisco vederlo in sala cinematografica sicuramente avrebbe avuto e gli avrebbe dato sicuramente quella sorta di dignità che in effetti non gli ha praticamente dato su un televisore abbastanza grande nel proprio salotto quindi in effetti avrei sicuramente apprezzato maggiormente se il film l'avessero direttamente distribuito al cinema anziché distribuirlo come Disney Plus Original quindi direttamente su piattaforma e mi è davvero dispiaciuto anzi io avrei fatto sicuramente il contrario cioè effettivamente il viceversa con La Sirenetta La Sirenetta l'avrei fatto uscire probabilmente anzi quasi sicuramente in piattaforma su Disney Plus come Disney Plus Original mentre Peter Pan e Wendy essendo comunque un film abbastanza amato comunque perché diciamocelo chi non ama Peter Pan ecco effettivamente sicuramente avrebbe portato in sala un bel po' di pubblico non che La Sirenetta non ne potesse e non ne possa portare assolutamente anzi però sicuramente io avrei apprestato maggiormente questo piccolo dettaglio cioè di vederlo su un grande schermo in una sala cinematografica al buio proprio con un impianto audio decente non qui in casa che comunque per quanto possa essere decente la riproduzione su piattaforma streaming come appunto Disney Plus in effetti non rende minimamente giustizia a tutto il reparto tecnico, sonoro, scenografico di effetti speciali di regia e di fotografia che una sala cinematografica ti può donare rispetto a un televisore ovviamente purtroppo dobbiamo aspettarci che questo film questo Peter Pan e Wendy non uscirà probabilmente mai in home video quindi non uscirà neanche in DVD e Blu-ray ma probabilmente bisogna vedere se in effetti diciamo i risultati che volevano ottenere nell'azienda appunto di Disney quindi Disney Plus in questo caso sono soddisfacenti al punto tale che appunto si venda l'edizione home video del suddetto film che io sinceramente non disegnerei anzi di acquistare l'avrei acquistato immediatamente in Blu-ray e ovviamente sembrerebbe un discorso quasi contraddittorio cioè vederlo in ovviamente in Blu-ray anziché vederlo su piattaforma perché in effetti avendolo in copia fisica mi piace sicuramente di più avere la copia fisica di un film che posso sicuramente avere senza abbonarmi a una piattaforma streaming comunque sta di fatto che il lavoro che è stato svolto dal cast tecnico e artistico di questo Peter Pan e Wendy rende sicuramente più che soddisfacente per quanto mi riguarda personalmente parlando e mi dispiace che comunque come ho detto abbia diciamo diviso il pubblico sicuramente i fan e non sia essenzialmente piaciuto a nessuno è stato un film che effettivamente posso dire mi è piaciuto mi è piaciuto non tantissimo non è stato sicuramente un capolavoro ha i suoi pregi ha i suoi difetti questo è certo non mancano ovviamente in film come questi sicuramente anche il Pinocchio di Robert Zemeckis presenta numerosi difetti che oggi ho notato a rivederlo probabilmente se dovessi rivedere questo Peter Pan e Wendy sicuramente non potrà far altro che farmi tornare bambino perché in effetti è stato un film che mi ha fatto sognare e di questo veramente lo ringrazio davvero di cuore a David Lowry e i miei più sentiti complimenti perché in effetti sicuramente mi ha soddisfatto come il prodotto finale mi ha soddisfatto ampiamente però effettivamente posso dire quello che hanno detto anche alcuni altri youtuber o comunque altre persone che hanno recensito questo film che hanno comunque voluto esprimere la loro opinione su questo film nonché essenzialmente una semplice cosa mi aspettavo decisamente di più ma non per la durata ma sicuramente per uno svolgimento e per una storia sicuramente molto più amplificata da uno svolgimento uno sviluppo maggiore di quello che è lo sviluppo dei personaggi della storia di tutto il resto perché purtroppo l'isola che non c'è non viene neanche mostrata completamente non vediamo nient'altro di quello che effettivamente si vede nei trailer però vi dicevo anche questa sorta di cupezza che viene data anche un po' da questo fatto che ci sono questi bambini essenzialmente questi ragazzi questi ragazzini che stanno entrando prepotentemente nella preadolescenza nonché nell'adolescenza effettivamente loro hanno paura di crescere in effetti ho detto le tematiche sono davvero interessanti ancora oggi sono molto molto attuali nonostante sia essenzialmente un racconto nonché opera teatrale di letteralmente quasi più di cento anni fa quindi essenzialmente James Matthew Barry comunque con la sua opera teatrale ha fatto un ottimo lavoro e soprattutto in realtà è quasi più una trasposizione cinematografica dell'opera teatrale più che un remake in live action del film classico Disney nonché quattordicesimo classico Disney di settant'anni fa questo sedicesimo remake in live action per Disney in effetti non può effettivamente far altro che allungare la numerosa lista di film che vedremo in futuro da quel che avevo visto vedremo delle belle in futuro ma chissà bisogna anche aspettare di vedere chi ci si metterà dietro a questi progetti che in effetti non stanno venendo molto apprezzati dal pubblico che ha apprezzato film come Huck e Capitano Uncino o comunque film del passato che hanno fatto la loro infanzia la loro adolescenza perché no quindi hanno fatto comunque hanno segnato la loro infanzia in effetti come vi dicevo per me Peter Pan i personaggi di Peter Pan è sempre stato comunque ma comunque non solo il personaggio ma proprio la storia di Peter Pan in qualsiasi salsa preferibile immaginabile lo si voglia proporre sicuramente io ho recuperato ogni singolo piatto in questo caso in realtà film che ha parlato di questo argomento quindi ogni singola trasposizione di Peter Pan io l'ho vista persino anche il film con Johnny Depp e Freddie Highmore che appunto narrava le gesta di come appunto avesse avuto in mente l'idea del personaggio di Johnny Depp cioè il personaggio di Barry di scrivere appunto la storia di Peter Pan in chiave teatrale soprattutto di trasporlo in chiave teatrale quindi anche per questo motivo non mi sento minimamente di stroncarlo questo film infatti non a caso il voto finale che assegno a questo Peter Pan e Wendy è un sufficiente un 6 essenzialmente perché in effetti diciamocelo è un film al quale io effettivamente qualsiasi sia il film di Peter Pan io ci sono affezionato a questo personaggio comunque alla storia in toto di Peter Pan quindi tutte le cose iconiche che abbiamo visto e amato in numerosi film io le ho apprezzate e sono un grande fanatico di questo personaggio di questa storia quindi essendoci particolarmente affezionato non mi sento in grado di stroncare questo prodotto anche perché tra l'altro io apprezzo David Lowry tantissimo come regista come veramente un grande artista qual è perché veramente ha fatto un lavoro sicuramente magistrale da questo punto di vista per non parlare del fatto che il film non è altro che un film di intrattenimento un film di intrattenimento che sì magari può essere per le generazioni di questo periodo storico in effetti perché no però per quanto mi riguarda personalmente io da grande fanatico del film originale non mi sento in grado di stroncarlo perché sicuramente non si possono fare paragoni grossi paragoni in particolare sul film originale di 70 anni fa perché comunque le storie sono completamente differenti per certi aspetti perché alcune sicuramente trovate alcune dinamiche sicuramente le abbiamo già viste però in salsa sempre ovviamente differente in numerose trasposizioni cinematografiche che hanno fatto di questa grande avventura che è quella di Peter Pan essenzialmente e ovviamente di tutti gli altri personaggi che abbiamo amato e apprezzato col passare degli anni con la nostra crescita giustamente questo Peter Pan e Wendy sicuramente potrebbe essere un film per le nuove generazioni però per quanto mi riguarda personalmente lo è anche per la mia generazione che è cresciuta sicuramente col passare degli anni sicuramente con i classici Disney che abbiamo tanto amato e adorato nella nostra infanzia perché no anche nella nostra adolescenza anche quando siamo cresciuti quando siamo diventati adulti appunto cosiddetti adulti giovani adulti ecco nel mio caso specifico e quindi per questo motivo ho trovato Peter Pan e Wendy un film di buon intrattenimento un film coinvolgente un film che mi ha saputo emozionare mi ha saputo commuovere in alcune sequenze e mi ha saputo anche far divertire e addirittura e addirittura mi ha fatto anche decisamente riflettere come al solito per le sue tematiche che vengono affrontate ovviamente in tutte le salse di queste trasposizioni cinematografiche di Peter Pan naturalmente c'è chi riesce a trasporre in maniera molto più chiara limpida e pulita la tematica principale del film in maniera molto più sicuramente memorabile però in effetti è un film che veramente ho apprezzato quindi con questo effettivamente non so più che altro dirvi su questo film che ho apprezzato seppur in maniera molto ristretta molto minore rispetto a altre trasposizioni cinematografiche nonché remake in live action dei classici Disney e quindi è un film decente per quanto mi riguarda personalmente soprattutto dal punto di vista tecnico di David Lowry che ha fatto comunque come vi dicevo anche prima un buon lavoro sicuramente mi aspetto di vedere magari uno spin off un prequel un sequel di questo film che probabilmente potrebbe anche colmare alcune lacune che si sono create con questo film magari qualche lacuna insomma qualche vuoto in effetti me l'ha lasciato questo film quindi non vedo l'ora di vedere nel caso in un prossimo futuro se dovessero fare un film proprio sicuramente sul passato di Capitano Uncino o comunque sul passato tra appunto questo rapporto tra Capitano Uncino e Peter Pan perché no giustamente e con questo un film sicuramente crepuscolare un film delle atmosfere malinconiche e nostalgiche che ha saputo sicuramente farmi emozionare a modo suo e per questo mi sento di consigliarvelo assolutamente di recuperare questo magnifico film che per quanto non sia stato questo gran capolavoro mi sento comunque di consigliarvelo e di recuperarlo su Disney Plus e naturalmente cercate anche di recuperare i film del regista David Lowery perché sicuramente non ve ne pentirete affatto non potrete far altro che apprezzare il lato tecnico e registico del capace David Lowery nei film A Ghost Story Il Drago Invisibile Old Man and the Gun e perché no anche Sir Gawain e Il Cavaliere Verde vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto per essere stati pazienti per avermi ascoltato fino a questo punto e non posso far altro che congedarmi da voi e ci rivediamo in un altro prossimo video ciao a tutti